Il perché di questa candidatura? Partiamo da qui. Allora, io credo che le sfide che adesso l'Europa dovrà affrontare mi posso permettere di sbilanciarmi perché io sono il più giovane della mia lista, sono quelle più grandi che abbiamo mai visto nella mia vita. E quindi bisogna mandare a Bruxelles, secondo me, persone che abbiano sì preparazione, competenza, ma anche idee nuove. Io credo che voglio portare questo nella discussione. Francesco Cappelletti, 31 anni, casentinese, è uno dei candidati alle prossime elezioni europee originario del territorio aretino. È in corsa con l'Ibdem nella circoscrizione Italia-Centrale per la lista Stati Uniti d'Europa. Sì, esatto, Stati Uniti d'Europa è una lista che comprende, diciamo, diversi partiti. Quindi, lo dico da subito, le idee non sono sempre le stesse, ma questa è la democrazia. Continuare a pensare a questa Unione Europea che è lontana, che, diciamo, ci dice l'Europa cosa fare, non è così. Allora, l'Italia ha il 10% di rappresentanti dentro il Parlamento e, secondo me, l'Italia deve contare tanto. Anche perché l'Italia è un paese libero, un paese importante, è un paese che ha una storia importante, si ha contribuito sin dall'inizio alla, diciamo, costruzione dell'Europa e quindi mandare persone preparate è fondamentale. Quindi, sbattere i pugni sui tavoli a Bruxelles serve a poco o a niente. Essere preparati significa sapere andare in una commissione a parlare di semiconduttori e sapere cosa dire. Quindi, non solo dire no, noi non lo facciamo, oppure non solo dire qualche cosa che non c'entra niente. Chiara la sua visione del futuro, soprattutto dell'industria, in Europa. Uno dei discorsi fondamentali che è poco discusso in questo momento, una discussione politica che talvolta diventa un po' bescera, diciamo, specialmente in Italia, è il tema dell'industria, dell'industria e della competitività. C'è una mancanza di investimenti, quindi se non ci sono investimenti non c'è industria, se non c'è industria non c'è competitività e quindi si sta peggio. Allora, quindi questo poi ha effetti sul mercato del lavoro, perché si trovano meno lavori, ha effetti nel pubblico, perché il pubblico ha meno soldi da spendere, perché se le industrie sono, diciamo, la spina dorsale della nostra economia, esatto. E quindi, diciamo, creare politiche industriali, non solo che siano agevoli per tutti, che è già difficile, perché abbiamo 27 Stati membri, parliamo 24 lingue, 3 organi, no? Commissione, Consiglio e Parlamento. Quindi non solo che vadano abbastanza bene per tutti, ma che siano anche strategiche nel lungo periodo. Questo è veramente importante. Perché è importante che il voto degli italiani conti anche in questa tornata elettorale? Prima di tutto per non dare ragione a chi dice meno Europa. Secondo me è importante perché, insomma, si dice sempre che la politica, c'è molta sfiducia nella politica, i giovani non vanno a votare, allora io invito tutti da 18 anni in su ad andare a votare, farò molti video anche divertenti, utilizzerò i social, quello che posso, iscrivetevi ai miei canali, come dicono gli influencer. Credo che per fare la politica del futuro, per fare l'Europa del futuro, i giovani sono importantissimi, quindi per loro andare a votare. Le persone, diciamo, un po' più attempate, io parlo di tempo ai miei nonni, continuate a votare per i giovani, quindi non c'è, diciamo, un'esclusività in questo senso. Tutti devono andare a votare per il futuro di un'Europa, che è unita, quindi nel nostro caso, verso gli Stati Uniti d'Europa, è l'unico futuro che vediamo. Per lui Bruxelles non è certo una meta sconosciuta, è infatti professore presso la Bruxelles School of Governance e tiene corsi su disinformazione, cyber security e comunicazione strategica. Sì, beh, io vivo tra l'Italia e il Belgio, quindi sono spesso a Bruxelles, ho collaborato con il Parlamento, sono ricercatore all'università, quindi voglio fare un appello agli elettori, anche se voi mi votate e io non vincessi, non mi preoccupate che starò sempre lì al Parlamento a rompere le scatole, prima di tutto ai parlamentari, a vedere che lavorino bene e che i soldi dei contribuenti siano spesi bene, quindi sarò molto presente.